La natura è intelligente, sa che nulla si crea per caso. Gli animali hanno imparato che da soli non si vada a nessuna parte. Hanno scelto la cooperazione, legare le energie, va la differenza. Anche l'uomo raggiunge i risultati solo in sinergia. C'è un modo semplice per dare il via ad un progetto in cui credi. Si chiama crowdfunding. Crowdfunding! Scegliete come usare i vostri risultati. Per noi, e noi cosa ci guadagniamo? E' equiti. E' partecipare all'impresa. Insomma, tutto quello che costruiamo diventa nostro. Equity Based, crowdfunding. Scegli online il progetto su cui investire. E partecipa anche tu all'impresa. Equity Based, crowdfunding. Scegli online il progetto su cui investire. Scegli online il progetto su cui investire. E partecipa anche il progetto su cui investire. Scegli online il progetto su cui investire.